Buonanotte, ben ritrovati dalla redazione web della città, sono le due del mattino di martedì, siamo in diretta ormai da 11 ore circa per lo scrutinio dei voti del Sindaco del Consiglio Comunale e dei consigli circoscrizionali, quando sono passate 11 ore appunto dalla chiusura dei seggi, non abbiamo ancora il dato definitivo per quanto riguarda il Sindaco, siamo a 902 sezioni su 919, le 17 mancanti mancheranno ancora per un po' a dire il vero, ha vinto Piero Fassino con il 56,66%, Michele Coppola si è classificato al secondo posto al 27,31%, per quanto riguarda gli altri candidati 4,98 per Vittorio Bertola, Alberto Musi al 4,86, Domenico Coppola al 3,56%, Iuri Bossuto all'1,5%, Giacinto Marra, Detto Giangi allo 0,38%, Rossana Beccarelli allo 0,34%, Daniele Debetto 0,15%, Nicola Cassano 0,14%, Lorenzo Varaldo 0,07% e Giorgio Portis allo 0,06%. Per quanto concerne invece i risultati delle liste al Consiglio Comunale, siamo a 888 sezioni su 919, Partito Democratico primo partito al 34,5%, il Popolo della Libertà 18,29%, Moderati per Fassino 9,08%, Lega Nord Bossi 6,88%, Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola 5,62%, Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo.it al 5,26%, Di Pietro Italia dei Valori 4,77%, Casini Unione di Centro Libertas 2,43%, Lista Domenico Coppola Sindaco 1,66%, Futura Libertà 1,4%, Federazione della Sinistra, Rifondazione Comunisti Italiani 1,15%, Consumatori per Fassino 1,13%, Lista del Grillo no Euro 1%, le altre liste sono sotto l'1% ciascuna, trovate il dettaglio su www.comune.torino.it. Bene, sono le due qualcosa del mattino, noi ci rivediamo alle 2.30 per la prossima edizione contando di avere qualche seggio in più dei 902 attualmente disponibili. A tra poco.